Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai-da-te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo video tutorial, certificato per una durata superiore ai 10 minuti, vorrei presentarvi Book.io. Si tratta di un'applicazione free che serve per archiviare online i siti, le risorse, le pagine web, video, immagini, quello che volete voi, che troviamo durante la navigazione. Non solo li possiamo archiviare, ma li possiamo archiviare ordinatamente. Insomma, è un'applicazione per il bookmarking, ma anche, seppur a livello minimo, per la cura dei contenuti, cioè per il filtraggio dei contenuti della rete. e la loro archiviazione ordinata. Ancora una volta, devo dire che ho conosciuto questa applicazione grazie a Roberto Sconocchini. Chiunque fosse interessato alle risorse per la scuola e non solo per la scuola primaria, può visitare il suo blog, ricco di spunti, è molto interessante. Bene, che cos'è Book.io? Abbiamo detto che Book.io, qui vedete, Book.io, come è scritto, per poterlo cercare, è un sistema per gestire i segnalibri con una ampia possibilità di personalizzazione. è free e noi possiamo creare il nostro archivio di segnalibri online, si apprende rapidamente, forse non c'è neanche bisogno di un videotutorial, soprattutto di uno dei miei lunghissimi videotutorial ed è molto semplice da usare, lo possono usare anche coloro che hanno una competenza nell'utilizzo dei browser e nella navigazione web basilare e anche gli studenti più piccoli. Noi spesso parliamo di competenze digitali, ebbene, gli studenti sono nativi digitali, ma sono anche selvaggi digitali, nel senso che hanno difficoltà, come tutti del resto, a gestire quella enorme mole di informazioni, si vede il sovraccarico informativo e cognitivo che abbiamo a disposizione nel web. Pertanto è importante disporre di uno strumento, ne basta uno, ce ne sono tanti, questo è uno dei tanti, per organizzare e personalizzare le risorse che si incontrano durante la navigazione. Del resto, la ricerca di informazioni, il loro filtraggio, la loro selezione, il loro confronto, la loro organizzazione e contestualizzazione costituiscono tra le più importanti competenze digitali da acquisire. Per esempio, se andiamo a vedere le indicazioni nazionali per il curriculum, fondamentalmente si riducono, per modo di dire, si riducono appunto a questo, cercare e sfruttare le informazioni organizzandole, reperendole e riuscendo a recuperarle quando occorrono. Ma la stessa cosa vale per le DigiComp nella versione 2.1 o per le DigiComp da Edo. Bene, che cosa possiamo fare? Lo vedremo subito. L'altra cosa più interessante è che possiamo creare non solo diverse categorie, ma diversi pannelli. Mi spiego. Possiamo avere dei contenitori all'interno del quale disporre i nostri segnalibri organizzati per categorie. Altra cosa interessante è che possiamo sincronizzare con tutti i nostri dispositivi, tablet, smartphone, pc, desktop, eccetera. e che possiamo disporre di un bookmark, cioè di uno di quei pulsanti che stanno sul nostro browser, almeno per Chrome è disponibile, in modo da cliccare il pulsante e automaticamente inserire il segnalibro nella nostra categoria. Un'altra cosa da dire è che sono continuamente sviluppate nuove funzionalità, ma andiamo a vedere l'applicazione direttamente. Ecco qua, per registrarvi dovete cliccare Sign Up e compilare il solito modulo. Io mi sono già registrato, quindi vado su Sign In e mi loggo. Bene, questa è quanto vi apparirà. Questa è la nostra dashboard, cioè chiamiamolo il nostro pannello. Possiamo creare diversi pannelli, io per esempio insegno storia e filosofia, e quindi potrei creare un pannello chiamato filosofia, in cui inserire tutti i link di filosofia ordinati secondo vari criteri, temi, problemi, logica, etica, storia della filosofia antica, eccetera. Vediamo come si fa. Aggiungi dashboard, se avete problemi potete anche tradurre in italiano, ma insomma è un inglese abbastanza basico, quindi io preferisco mantenere l'inglese, perché come vedete si scompagina un po' l'impaginazione. Aggiungi quindi una dashboard, gli do un nome e la chiamerò filosofia. Fatto. A questo punto, vedete, posso andare nella mia dashboard filosofia e cominciare a inserire le categorie. Per esempio, che ne so, logica, fatto, e qui aggiungere i miei bookmark. Posso farlo in due modi, appunto, aggiungi un bookmark, e qui incollerò un link che mi sono procurato, una breve storia della logica di Luca Valsesi, e qui posso, vedete, anche personalizzare il titolo. Posso anche lasciare questo, lasciamolo fatto. Ecco qui ho il mio primo segnalibro. Naturalmente posso creare altre categorie. Nuova categoria è qui, per esempio, mettiamo filosofia antica. Posso anche dare un colore alla categoria, diamo questo. Ecco qua, vedete, posso chiudere e aprire. Questo è molto comodo quando siano molti bookmark. Posso spostare la categoria logica dopo filosofia antica, se ne voglio, per esempio, in ordine alfabetico. E aggiungo un'altra categoria, ma per farlo voglio usare il bookmarklet, cioè uno di questi pulsanti che si trovano qui. Per andare a recuperare il nostro pulsante, andiamo su About, scorriamo, ecco, vedete, estensione Chrome, a me invece interessa proprio il bookmarklet. Clicco e aggiungo. Mi dice di trascinare il bookmarklet nella barra del mio browser. Vediamo se devo trascinare questo. Ok. Lo posizioniamo qui, vediamo se funziona. Vedete, è apparso il bookmarklet. Aggiungi a bookie. Funziona con JavaScript. E adesso mettiamolo alla prova. Per esempio, logica. Formale, poniamo. Andiamo sul primo sito che ci capita, Treccani, e clicchiamo Aggiungi a bookie. Ecco, vedete, mi chiede in quale è dashboard, quella filosofia, e in quale categoria logica. A questo punto posso cliccare su Aggiungi il bookmark e andare a controllare. Chiedo scusa. Andiamo a controllare. In logica, vedete, adesso ho anche, per esempio, la logica è logica formale. Anche qui, se mi posiziono sul bookmark, posso cancellarlo, posso rieditarlo, posso spostarlo giù o su, ma fa anche... No, non è possibile trascinandolo. E, infine, posso, un'altra cosa molto utile, vedete, posso aggiungere una nota. Molto utile per indicazioni, informazioni, una frase molto breve che mi faccia comprendere per che cosa è interessante o a che cosa mi può servire quel determinato bookmark. Quindi si può fare un minimo anche di cura dei contenuti, cioè di contestualizzazione, di aggiunta di valore al mero link, attraverso un commento, una descrizione, e così via. Vi volevo segnare altre due cose. Vedete, qui abbiamo una casella di ricerca. Questo è molto utile e non è sempre presente in programmi simili, per cui io posso cercare tra i miei bookmark digitando parole chiave. Oppure, e poi, la rotellina, cioè le impostazioni, posso cambiare le caratteristiche, ecco, cambierà, vedete, il colore. Questa è la barra di navigazione, la facciamo verde. E ci sono altre possibilità di configurazione, vedete, mostra, menù a discesa, visualizza barra laterale, possibilità di inserire note nei segnalibri, compilazione automatica, e così via. Apre i segnalibri una nuova scheda, è molto utile, quindi io le lascio. Fatto, ecco, qui il nostro ambiente, con le nostre dashboard, per essi solo due, i nostri pannelli. Qui avete, inoltre, la storia dei vari aggiornamenti, aggiunta di funzionalità, eccetera. Sarebbe opportuno, per esempio, dare la possibilità di condividere i segnalibri con un link. Per esempio, se io volessi condividere con i miei studenti questa raccolta di segnalibri dedicata alla filosofia antica, ecco, non lo posso fare perché manca il pulsante condividi. Bene, è tutto, sono riuscito a superare dieci minuti, l'ho tirato un po' alle lunghe perché non ce la facevo, ma ce l'ho fatta anche questa volta. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.